Penso la stessa cosa che ha detto Arisa, ha un ottimo arrangiamento, veramente una bella idea per rivitalizzare, rianimare questa canzone che era nata già da volta, nel senso che una canzone che io non amo particolarmente, anche se ha vinto Sanremo, ma infatti credo che la maggior parte delle cose che vengo di Sanremo fanno bastante spinta. Scusa Marco, è la prima volta che sentiamo Laura, non fumo qui.